salve a tutti ragazzi sono elfio e benvenuti finalmente nel video in cui annuncerò il vincitore del giveaway di pokemon cristallo chiedo scusa a tutti voi perché avrei dovuto pubblicarlo ieri ma purtroppo un po per mancanza di tempo e un po per gestione del tempo non ci sono riuscito gran parte del tempo che ho a disposizione per registrare video lo sto dedicando alla nuova serie di yoshis crafted world allora innanzitutto ci tengo a sottolineare che questa non sarà soltanto una vittoria per colui che riceverà il gioco in regalo ma anche un po per me perché il fatto che il giveaway si sia concluso significa che io sono finalmente arrivato a più di 600 iscritti quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti gli iscritti del mio canale sia i nuovi che i vecchi adesso però non voglio tenervi troppo sulle spine andiamo ad annunciare il vincitore del giveaway ebbene il vincitore del giveaway è rullo di tamburi sono io pesce d'aprile adoro il primo aprile scherzi a parte pesci d'aprile a parte il vero vincitore è black tiger complimenti black tiger ci sentiamo presto per organizzare la spedizione di questo bimbo per tutti quelli che purtroppo non hanno vinto mi dispiace ma non disperate perché a breve farò un nuovo giveaway e non solo il mio canale è comunque ricco di ottimi contenuti quindi rimanete iscritti ok quello che vi dovevo dire ve l'ho detto quindi non mi resta nient'altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale ciao ciao è è è è è è è è Grazie a tutti.